delle frazioni, cioè mi spiego meglio, a Campo Gialli ad esempio andremo a consolidare la rampa di accesso al castello e anche le scale sempre del castello per importi considerevoli circa 160.000 euro, sempre a Campo Gialli e sempre previsto nel bilancio di quest'anno ci sono 50.000 euro che la cui destinazione è stata fatta scegliere ai cittadini stessi attraverso il bilancio partecipativo, ci sono state fatte alcune riunioni e su queste riunioni i cittadini hanno proposto delle opere e dopo le hanno votate, hanno deciso di ristrutturare quello che è il parco delle rimembranze, quel parco dove ogni albero è dedicato ad un caduto. Poi andremo a ristrutturare finalmente il tetto del comune, del palazzo comunale, ristruttureremo gli spogliatoi della penna, del campo sportivo della penna e abbiamo acquisito l'anno prossimo per renderlo utilizzabile e dovremo ristrutturare gli spogliatoi. Poi faremo interventi sul parco pubblico attrezzato per la riqualificazione e altre piccole opere, ad esempio alla frazione di Monticelli andremo a realizzare una tettoia nei locali del circolo che è da tempo che ci viene richiesta dai cittadini e che darà una risposta all'associazione ai cittadini.